Certo pubblico Certo pubblico rompe le balle alla prima cosa che va male, non va bene, non si ottiene la cosa giusta, qua ci sono ragazzi giovani che stanno lavorando tanto, anche di più rispetto alla Serie A e alla Serie B perché ci alleniamo anche una volta di più la mattina, non siamo professionisti, stiamo lavorando per creare una squadra competitiva che faccia il suo dovere. Dato che l'impegno ci è sempre stato, cerchiamo di aiutarli questi ragazzi, perché sia il mister, il suo staff e tutta la squadra sta lavorando sodo per cercare di ottenere un obiettivo che non è facile, non è perché ci chiamiamo Siena che siamo sicuri che si vince, qua è dura ogni domenica. E quindi se il pubblico lo capisce bene, se no se ne può stare a casa tranquillamente, ripeto certo pubblico se ne può stare a casa tranquillamente a far dell'altro, a guardare la Serie A, la Serie B e altre categorie. Noi siamo in Serie D, c'è da faticare e da sudare. Punto. Grazie a tutti, buonasera.